Appuntamento con la musica questo weekend presso Borgo in Coronata con la 29esima edizione del Festival A Caccia di Voci Nuove, organizzato dall'Orchestra Epicentro. L'Orchestra Epicentro nasce nel 1973 da un'idea dei fratelli Tonino e Nicola Corlito, un'orchestra che nella sua storia ha accompagnato diversi artisti calcando numerosi palchi in tutta Italia. La 29esima edizione del Festival Canoro si svolgerà in due serate. L'anno scorso la vittoria andò alla giovanissima artista castelluccese Maria Lucia Rauseo in un evento che ospitò il duo hip-hop foggiano Tavola 28. Nell'occasione abbiamo ascoltato la vincitrice della scorsa edizione e l'organizzatore Nicola Corlito. L'importante è semplicemente partecipare, io mi diverto perché la mia passione è il canto e la musica in generale, quindi semplicemente partecipare, entusiasmare il pubblico e divertirmi io stessa. L'anno scorso hai portato un brano in francese che hai seguito con la tua chitarra, quest'anno sai già cosa devi presentare? Abbiamo delle novità in serbo? Allora no, sono abbastanza indecisa tra due brani, però sono in inglese questa volta, quindi non in francese ma in inglese e quindi vediamo un po' tra due i brani di Etta James, quindi sempre quel genere abbastanza, un genere blues, un genere degli anni 60-70. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Nicola Corlito, cofondatore insieme al fratello Tonino dell'Orchestra di Precentro. In questa occasione vogliamo ricordare appunto la scomparsa di Tonino circa un anno e mezzo fa. Nicola siamo aggiunti alla ventinovesima edizione del festival alla caccia dei voci nuove. Quest'anno grande novità, l'avvio del festival itinerante con prima tappa a Borgo in Coronata il 30 settembre. Come mai la scelta di iniziare proprio da Borgo in Coronata? La scelta è venuta dopo 29 anni, che è stato il primo anno, 29 anni fa, facciamo il primo festival a Borgo in Coronata. Visto che col mio batterista da 25 anni che suoniamo insieme, quest'anno mi ha chiesto a lui perché non partiamo itinerante e dobbiamo partire da Borgo in Coronata e è solo questo il motivo. Quest'anno faremo solo una tappa, l'anno prossimo ci sono già in programma 3-4 tappe per portare un po' in giro il nome di Castelluccio e cercare sempre nuovi talenti e nuovi gruppi, nuova linfa per la musica, nella speranza che cresciamo sempre di più. Quest'anno abbiamo anche i concorrenti da fuori regione, qualche concorrente da Roma, qualcuno da Monopoli, qualcuno da Potenza, insomma iniziamo ad allargarci. Allora Nicola, ricordiamo le finalità del festival appunto. La finalità di questo festival è praticamente quella risaputa, di cercare nuovi talenti, cercare nuovi gruppi, portare in giro il nome di Castelluccio, come ho detto prima. e lo facciamo perché noi piace questo fatto qua, sono 43 anni che noi suoniamo e portiamo avanti questo discorso nella speranza che cresca sempre di più.